Un ospite di prestigio per l'attistudio di Sulmona in occasione della Masterclass organizzata nella giornata di ieri che ha dato inizio ufficialmente ai corsi di musica per l'anno 2014-2015. Si tratta di Christian Meyer, batterista degli Enel e Leostorietese, che ha tenuto una lezione su diversi aspetti storico-musicali della batteria. Ritengo che sia un obiettivo importante mettere a disposizione di ragazzi anche della nostra zona delle personalità con cui confrontarsi, delle personalità comunque eccellenti nell'ambito musicale che hanno comunque molto da insegnare. Christian si è mostrato subito molto disponibile e devo dire che è comunque una persona eccezionale sia oltre che sotto il profilo musicale anche sotto il profilo personale. Questa è stata una giornata particolare perché mi sono dedicato alle nuove generazioni, ho cercato di trasferire personalmente la mia conoscenza sullo strumento, quello che io ho imparato e studiato a gran fatica per molti anni da ragazzino e quindi ho cercato di girare alle nuove generazioni di questa zona che sono sicuramente di qualità perché ci sono ragazzi volenterosi, già preparati molto bene dai docenti e quindi di fondo è più facile, è più semplice trasferire le informazioni. Devo dire un buon livello, sono contento, è sempre una soddisfazione perché c'è uno scambio, un interscambio di informazioni tra chi insegna e chi impara. C'è anche il ritorno, quindi io imparo delle cose anche dai ragazzi giovani ed è un piacere essere qui. Un altro appuntamento invece davvero molto interessante che verrà tenuto da Andrea Del Castello, un noto musicologo comunque della zona, che è un seminario di analisi video musicale con il quale praticamente Del Castello comunque si insegnerà comunque agli allievi l'importanza dell'immagine in relazione alla musica e viceversa, perché ci sono molti dettagli che comunque anche noi osservando un video diamo per scontati. Lui svelerà questi segreti nascosti del video. Andrea Del Castello è reduce dall'Università di Nimega, di un incontro di musicologi da tutto il mondo, quindi porta l'esperienza raccolta in ambito internazionale e verrà qui all'Atti Studio a regalarcela a noi. Invitiamo tutti quanti, tecnici e non del settore, a partecipare perché è davvero un appuntamento molto molto interessante. Un grande saluto a tutti i telespettatori di Onda TV!